Decreto lavoro. Schlein. Hanno nascosto delle norme che riescono ad aumentare le maglie della precarietà. Da ascolta la notizia, decreto lavoro, ho un'opinione pessima. Continuo a pensare che sia una sentenza di condanna alla precarietà. Dietro un intervento del taglio del cuneo che non è strutturale. Come servirebbe? Ma soltanto temporaneo hanno nascosto delle norme che riescono ad aumentare le maglie della precarietà che sta già condizionando enormemente le vite di tanti giovani e tante donne. Soprattutto al sud del nostro paese. Così la segretaria del PD. Ellie Schlein. A margine dell'incontro dedicato al cinquantesimo anniversario della fondazione EBER. In piazza di Petra a Roma. Non abbiamo bisogno di questo. Dobbiamo guardare a esperienze di altri paesi europei che hanno messo al tavolo le imprese e sindacati e ridurre contratti a termine precariato? Ha aggiunto la leader DEM.